Musica Nasone a tutti e ben ritrovati sul mio canale Dopo il video della coppa gemma rossa andiamo a fare il video della coppa gemma verde Andiamo con questa skin, questo kart, decalcomania e robe varie per prendere il 65% di punti litro in più Non credo di essermi presentato in questa introduzione di video, comunque io sono MonkeyDAndrea perché ancora non mi conoscesse Iscrivetevi al canale se questo video vi piace Abbiamo fatto una partenza orribile Sono sicuro che vinceremo anche questa coppa senza problemi Tanto questa qui è una pista molto corta ma che mi piace parecchio Questa qui che avete appena visto è l'unica scorciatoia se così voglian chiamarla Stavo per atterrare direttamente su un Baker Infatti mi hanno avuto un attacco improvviso di tosso e ho dovuto tagliare quel pezzettino di video Andiamo a fare l'ultimo giro Non ho idea di quali siano le altre gare all'interno di questa coppa Però bene o male più o meno le so abbastanza tutte Andiamo a finire questa prima gara, andiamo a prendere 9 punti Agli altri non vengono assegnati i punti, non capisco il perché Prossima gara Parco Coco Una delle piste più noiose di tutto l'intero gioco Però la dobbiamo fare Facciamola Ok la scorciatoia non si prende in questo modo assolutamente Non mi piace perché la trovo addirittura troppo semplice Non c'è niente di che da poter fare A livello di taglie anche proprio Guarda non usiamo il Baker Tanto Gli altri sono già messi male così Teniamo questo bellissimo turbo Se riusciamo Questa volta io lo lasciamo al Baker dai Non dovrebbero venire neanche troppo lunghi questi video sulle coppe Tra l'altro lì davanti avevo venito la gara Però lì davanti avevo visto in lontananza Tipo il Dottor Neo Cortex Ok continuiamo 18 punti gli altri 0 Continuo a dire che questa cosa è strana però Senza 32 monete Prossima gara Valico polare Ok qui ci sono Un paio di scorciatoie Una Non sono semplici da prendere nessuna delle due Infatti non so cosa riusciremo a fare in questa gara Cioè vincere la vinciamo Non so con quanto distacco più che altro Ecco appunto Ma perché siamo arrivati proprio lenti Vabbè dai Lasciamo perdere questa scorciatoia Questo giro Siamo ottavi Non arriverò mai Ottavo con una difficoltà media del gioco Anzi inizio a pensare di sì Inizio a pensare di sì E diciamo che tutto quello che poteva andarci male nel primo giro E' andato male Perché non mi ha tenuto il turbo blu Scusate la tosse Dai Dai Vabbè stavolta Non lo so Non lo so Stavolta mi meritavo di riuscire a prendere la scorciatoia Vabbè dai Giochiamo un po' Seriamente anche perché Se no tra un po' Veramente Non riusciamo ad arrivare i primi Dai Ma veramente Ma veramente facciamo ste foc del cavolo Il primo si è andato Figurati se non era così Che faccio il salto troppo alto Tra l'altro non ho neanche saltato In realtà Ma basta Dico dai Mi spiace Ho preso tutte le foche Tutte le foche Ho preso Tutte Ma non ci provo neanche Sono arrivato lentissimo Orribile sta gara Almeno una scorciatoia Ma la fai prendere Oh Almeno l'ultimo giro Si diciamo che se avessi messo difficoltà Difficile Non avrei vinto Ma manco per sbaglio sta gara Ok Altri 9 punti Pista 3 su 4 La prossima sarà Canyon Dingo Può essere Rocca Cortex Non so con che criterio Abbiamo scelto le piste Per le varie gemme Sinceramente Credo che una logica ci sia Ma Non so qual è Andiamo almeno Su quest'ultima pista Della gemma rossa Di andar bene Tra l'altro Non so Qual è la skin Che mi sbloccano Con questa gemma Verde Ok La scorciatoia qui L'abbiamo presa subito Già al primo giro Turbo blu Tanto qua Non riesco a mantenerlo Se no andrei a funghi Qui conviene In realtà Prenderò da questa parte Il Il bivio No Chi è che ha messo Il becker lì Cioè io faccio il bravo E non mi metto niente E voi Mi ripagate in questo modo Andiamo Di nuovo La scatola Di frutti Hoompa No Siamo arrivati lentissimi Cioè siamo arrivati Malissimo Più che altro Più che lenti Ero un giro Attimadissimo Quindi Tutto su che cade Ero preferito Non prendere La scorciatoia Beh dai Non stiamo facendo Neanche tanto schifo Direi Lo U-Turn Non è uscito Manco per sbaglio Stavolta Io vi lascio Altre Altri Bacon Indietro Che ti imparate Di nuovo Eh da un po' Che non gioco Da un po' Che non gioco Avevo visto Che stava per scendere Andiamo a finire Questa gara Arriviamo a 36 punti Primo in classifico Ovviamente Contro nessuno Andiamo a vedere La skin Che abbiamo sbloccato Ecco qua La gemma verde Premiamo X Ah la Ecco qua La skin Di Papu Papu Va bene Ci mancano Ancora Tre gemme Il prossimo video Sarà sulla coppa Gemma blu Direi che per questo video È tutto Io vi chiedo Di lasciare un grande like Iscrivervi al canale Ed attivare la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao